In piazzale Marconi controlli straordinari della polizia dopo la rissa dei giorni scorsi tra un gruppo di stranieri. Un uomo di 62 anni è rimasto seriamente ferito durante la potatura di un albero. Ha perso l'equilibrio cadendo a terra. È accaduto a bobbio. Domani scatta la prima domenica ecologica del 2018. Dalle 8.30 alle 18.30 limitazioni al traffico. Sui Pullman il biglietto semplice potrà essere utilizzato senza limiti di orario. Il campionato di piace e pro riprenderà il prossimo weekend. Domani tocca le categorie dalla Serie B alla prima. Dopo la sontuosa vittoria di mercoledì scorso contro Modena, la Wix LPR deve dare continuità. Domani al Palabanca arriva Latina.